ragazzi come vedete nell'inventario ho questo due secondi fa siamo andati nel land però non si è salvato abbiamo sconfitto l'ender dragon abbiamo preso tutte le armature un sacco di diamanti però visto che il mondo mi vuole male non si è salvato comunque vi faccio vedere qua ho una spada fortissima perchè ho trovato un sacco di libri qua c'è un sacco di roba libri appunto come ho detto quel piccone forte, la pala con fortuna che non so che mi servirà forse aspetto se spalo un blocco di terra magari me ne da due no quindi ragazzi vabbè però non è giusto secondo me perchè c'è abbiamo fatto un sacco di roba cioè una volta che porto la mario che non la porto da un sacco di tempo sconfiggiamo l'ender dragon prendiamo l'uovo facciamo un sacco di roba prendiamo l'elitra andiamo nella fortezza ci abbiamo messo otto ore sto registrando da otto ore però non si è salvato cioè no vabbè non veramente otto ore sto registrando da un'ora un'ora no 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 da un'ora da un'ora ok ragazzi prima di dopo che abbiamo sconfitto l'ender dragon abbiamo creato questa una palestra che era un altro video a parte però visto che durerebbe troppo poco il video del dell'ender dragon dove abbiamo preso le aste per fare i pesi visto che durerebbe troppo poco il video dell'ender dragon abbiamo inserito insieme quello della palestra il pavimento allora quanta dobbiamo fare grande fino a qui allora attaccato no di uno staccato dal muro secondo me è là bravo forse fino a qui forse fino a qui va bene così un po' più sano è buono che è buono facciamo così ok ho buttato già uno stack di due stack di vabbè io ce li ho i stack di calcio allora oh mi sai che dobbiamo fare c'è altri calcio suzzo nero grigio grigio dammene dammene abbastanza no no 8 dammi va bene così no va bene va bene va bene allora facciamo tipo che qui è doppio perché così si capisce che questo è l'angolo capito sei dall'altro da un lato sei dall'altro così si capisce che questo è l'angolino si si no puoi attirare 1 2 3 4 5 6 6 l'ho fatto ok che lo sta venendo comunque male no va bene allora dobbiamo fare no allora facciamo tipo così e così si eh queste sono le finestre no 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 solo però dall'avanti è così da fuori dagli esterni vabbè qua chiudiamo qua si chiude tutto che barra il tetto lo facciamo ma tu dovevi avere l'insegna quindi dobbiamo fare lo piatto tu volevi fare l'insegna quindi dobbiamo fare lo piatto eh quindi lo facciamo piatto eh quindi facciamo piatto ragamani oh nino guarda il cielo eh ma tu lo vedi che cambia sempre di sfondo ma perché si raga guardate lo vedo ogni volta che mi giro lo vedo come nessuno guardate questo vabbè allora li ho tappato ok allora le finestre le divido io facciamo così che dovrebbe essere più o meno al centro poi facciamo una cosa artitettonica facciamo tipo così così ok non lo so quarto credo che ce l'abbiamo qua facciamo che facciamo così così ok e così ok dai secondo me è carino facciamo questa cosa qui così 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 ecco così abbelliamo un po le finestre aspettiamo qui magari facciamo tipo così ok secondo me è carino sulla finestra così dai secondo te è bella devo fare la stessa cosa dall'altro lato quindi facciamo che qui poi qui magari parliamo un attimo su qui poi facciamo qui 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 e qui lasciamo chiudere poi facciamo così così quello lì si toglie e così perfetto poi si fa così 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 ok così 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 ma sei scemo ok secondo me doppio si deve fare quindi quindi facciamo così 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 lì vabbè lo facciamo lo facciamo triplo lo facciamo triplo così 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 lì ok lì no lì ok ok bravissima vedete ci ci sa che volta ma ti sembrrrr sì no è buono sì ok ragazzi abbiamo fatto l'insegna è venuta molto bene l'abbiamo fatta io no l'abbiamo fatta secondo me molto bene ora abbiamo fatto anche la palestra comunque è venuta abbastanza bene e cioè si capisce con la palestra secondo me poi magari sì sembra un naso quindi facciamo ok ok dai si capisce con la palestra forse per per abbellire aspetta per abbellire facciamo addirittura così ragazzi noi abbiamo praticamente finito mettiamo le porte e abbiamo finito questa è la nostra palestra ok mi sembra non c'era più quella perché c'è il nero ok quindi noi abbiamo creato la nostra palestra allora qui ci sono dei tapio tapio se stai sulla slab ovviamente dai qua però non devi andare dritto per dritto e poi non faremo qui ci sono tutti i tappi roma in qui manca una somma vabbè la prenderemo poi qui ci sono i pesi ovviamente tu ti metti così e fai i pesi uno due ok vabbè dormiamo un attimo perché è notte dormi uno due tre quattro cinque ho tutta la notte a fare i pesimi poi abbiamo fatto abbiamo fatto una zona yoga mettiamo un'altra cosa una zona yoga con tappetini poi qui sono altri pesi poi qui ci sono i pesi normali che siamo dovuti per colpa di questo qua sono dovuto andare nel nether a uccidere tipo 97 wither c'era wither with the skeleton ci ho messo 16 giorni perché ovviamente sono difficilissimi da adottare e ne ho dovuto uccidere tipo 40 miliardi per colpa di questo shh non puoi parlare sei morto ok quindi questo video può finire qua niente allora zitto allora fermo ok questo video può finire qua lasciate like iscrivetevi al canale attivatevi la bellissima attivatevi bis so di ciao